eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giu giu conclusa la sesta giornata di campionato con il napoli che è meritatamente in testa alla classifica un punto sopra la juventus anche se onestamente ragazzi secondo me dobbiamo crederci credo ancora ad oggi che il nostro vero avversario sia l'inter che penso che la juventus sia di un livello superiore rispetto al napoli però in questo momento il napoli di conte è sicuramente meritatamente avanti è saputo far meglio è saputo conquistare un punto in più nonostante la brutta battuta dal resto all'inizio non abbiamo avuto troppi pareggi e quindi giustamente siamo un punto in meno a 32 giornate dalla fine del campionato con ancora 96 punti a disposizione direi che non è assolutamente un dramma direi che non è un dramma però ragazzi ho visto qualcosa che non mi è piaciuto e mi collego proprio a napoli perché sono due giornalisti due anti giuventini che niente poco di meno hanno portato in studio a radio crc uno dei peggiori elementi che hanno fatto parte della storia della juventus il l'ex maggiore dei carabinieri auricchio che adesso si gode diciamo i frutti di calciopoli facendo da guardia spalla l'ex sindaco di napoli ecco per per intenderci per farvi capire e questo qui ragazzi ha ancora da parlare nei confronti di moggi ancora c'è qualcuno che gli dà visibilità dopo quello che abbiamo scoperto e sappiamo ne parliamo insieme questo video prima di tutto ragazzi un like a questo contenuto l'iscrizione al canale perché è fondamentale ragazzi sia il like che l'iscrizione per contenuti come questi farli circolare farli arrivare alle orecchie di più persone altrimenti loro che sono dei giornalisti fanno passare il messaggio un messaggio sbagliato messaggio sbagliato perché addirittura parlano di una lezione praticamente che avrebbe dato auricchio a moggi ragazzi questo davvero non va bene quindi like iscrizione e campanella delle notifiche queste telefonate di facchetti di morati di campedelli di 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 tutti erano tutte classificate come importanti con i baffi rossi con i baffi gialli come e più di quelle di moggi io adesso vi lascio la stampata alla fine della cosa come più di quelle di moggi quindi questo significa presidente che il carabiniere che stava la cuffia l'ha ascoltata e l'ha segnalata a chi la doveva segnalare e quando è arrivata al piano di sopra c'è qualcuno che ha fatto il farmacista e ha detto questa sì e questa no ma mi sta anche bene che tu dici questa sì e questa no perché per te non può essere rilevante ma siccome per la difesa sì tu non la puoi fare sparire non la puoi fare sparire è una vergogna ecco ragazzi per intenderci la breve clip che vi ho fatto vedere un tic toc che ho pubblicato qualche mese fa sul mio canale tic toc l'ho pubblicato anche qui corredato ad un video e spiega semplicemente che il colonel auricchio in fase di indagini lì a napoli ha fatto ha fatto in modo di far comparire determinate cose e farne scomparire delle altre questa cosa qui è la grida l'avvocato difensore naturalmente nell'ambito del processo appunto del processo di calciopoli ma se uno se andiamo a riascoltare non nei vado a prendere i contenuti vecchi pubblicato il testimone l'ex guardaline coppola che va lì dicendo anche l'inter era colpevole e viene ignorato ci dice a noi non interessa sapere delle notizie dell'inter vogliamo sapere vogliamo sapere cosa cosa assai sulla juventus altrimenti e viene slobato e questo sono prove agli atti ci sono le intercettazioni e lo dice anche all'interno della sua testimonianza nel processo prisma quindi è tutto documentato e c'è ancora gente come chiariello e giordano due giornalisti che hanno anche un seguito importante a napoli che sono conosciuti da tanti e che lavorano in radio in una radio ascoltata dai napoletani e ragazzi fanno comunque notizie alle parole di queste persone andando a creare un sentimento popolare quando tu fai un post del genere un post del genere dove praticamente fai capire che questo auricchio ha dato una lezione di calcio una lezione di di etica a moggi che ha fatto finta in tutti i modi cercando di riabilitarsi lo dice nel video chiariello perché l'unica cosa interessante di sette minuti di nulla praticamente in cui attaccano moggi senza una ragione e che vogliono andare diciamo a ripulire a ripulire la la coscienza la fedina di questo auricchio che assolutamente dovrebbe stare in carcere poi ragazzi non mi posso esprimere neanche tanto perché parliamo di gente che ha ganci potenti che ex carabinieri adesso ragazzi vicino all'ex sindaco di napoli e quindi e quindi è gente è gente che sicuramente rispetto a me rispetto a me ha conoscenze più importanti quindi bisogna anche stare attenti a quello che si dice però non si possono far passare questi messaggi assolutamente assolutamente vergognosi assolutamente privi di fondamento non si può portare la testimonianza di una persona che si è dimostrato che nell'ambito del suo lavoro ha svolto le indagini in modo fazioso ha fatto un lavoro fatto con i piedi un lavoro che non doveva essere fatto senza tenere presenti i criteri di investigazione criteri di legge insomma ragazzi ha fatto un'inchiesta fatta con i piedi un lavoro che è uno schifo e viene fatta passare la narrazione data in pasto al popolino della demonizzazione ancora una volta a 20 anni quasi di distanza da calciopoli di luciano moggi io questa versione non la posso accettare a 20 anni con le intercettazioni uscite con la vergogna con tutto ciò che si sa su calciopoli e lo sanno tutti poi che il triangolo dell'ignoranza che io ripeto sempre inter roma napoli vogliano ignorare queste cose vogliono far finte che noi che non sia successo perché a loro conviene demonizzare la juventus buttare fango sulla juventus gli brucia il culo ogni volta che parlano della juventus e allora quello è un altro conto però non facciamo finta che queste cose non siano esistiti perché altrimenti ragazzi altrimenti non si va avanti uscendo da questa cosa facciamoci due risate ragazzi perché mi ha fatto morire questo post di fratesi che addirittura ragazzi addirittura riceve i complimenti da zang che lo chiama top player lui dice gli dice ti abbiamo perso di un mission we miss you qualcosa del genere c'è scritto sì probabilmente voi messi io e quindi ti abbiamo perso caro presidente ragazzi queste sono le cose belle del calcio sono le cose per cui vale la appena vivere l'ultimo acquisto farlocco di zang dove non ha tirato fuori un euro l'ultima inculata tirata al sassuolo che gli è costata tra l'altro la serie b e c'è un rapporto molto speciale tra i due effettivamente ragazzi deve essere una soddisfazione aver portato un giocatore praticamente a zero senza tirar fuori un euro con pagamenti a babo morto il grande zang il grande zang che dalla cina che dalla può comunque usare i social quindi sappiamo che non è in carcere probabilmente sarà ai domiciliari in italia non può venire ma non l'hanno ancora arrestato restando sempre in tema di cartonati da segnalare un altro cartonato anti juventino a cui brucia parecchio il sedere vedete parla dell'incendio lì in quel di lissone parla di un rigore dato alla juventus di una tifoseria e scusa cioè ragazzi l'assurdità totale la demenza nella testa di una sola persona naturalmente parliamo di fabio bergomi youtuber famoso degli interisti che secondo me a parte che un anti juventino e lui lo fa per lo fa per fare il coglione per fare dissing su su twitter e quindi fare delle interazioni perché altrimenti non può essere così stupido ha avuto delle cose a favore anche nell'ultima partita la juventus ha giocato contro una squadra che doveva rimanere in 10 i tifosi della juventus sono stati esclusi dallo stadio così come quelli del genoa senza però averne colpe quelli del genoa sono quelli che hanno fatto a botte con quelli della sampdoria e che hanno portato alla chiusura dello stadio anche in quella partita la juventus come detto ha avuto degli svantaggi arbitrali clamorosi il calcio di rigore era netto e a lui brucia tremendamente tremendamente il posteriore dove non batte il sole un po di cremina brucia cul e passa tutto caro fabbio bergomi caro fabbio bergomi un po di cremina brucia cul perché stai sotto stai zitto il campionato doveva essere chiuso stai parlando di douglas luiz il tempo che douglas luiz inizia a giocare a pallone e poi ti zittiremo anche per quello intanto bremer come sta andando all'inter spero che stia andando bene sia lui che di bala sono degli ottimi giocatori per la difesa e per l'attacco dell'inter la fonte salutaci salutaci anche le fonti delle fonti e ragazzi e quindi portandovi tutte queste testimonianze di tutti questi anti juventini devo dire devo dire che evidentemente la juventus la juventus anche al secondo posto anche se non riesce ancora ad essere prima e da da decisamente fastidio soprattutto agli interisti che ci tengono su c'è poco da dire ragazzi c'è poco da dire noi siamo odiati al sentimento anti juventino è qualcosa che viene alimentato quotidianamente molto spesso è basato sul nulla su cose radicalmente inventate non basate su fatti non basate su cosa vi voglio dire ragazzi su fatti reali suffragate del suffragate dal realismo però però giustamente andare ad alimentare questo tipo di sentimento contro la juventus porta sempre delle interazioni porta sempre dei numeri e come vi ho fatto vedere anche nella giornata di ieri la pagliacciata della della gazzetta dello sport con una giornalista che addirittura ragazzi ha un canale youtube in cui parla di juventus e c'è della gente che la segue parliamo di fabiana della valla va a fare un articolo del genere dicendo che il mani di de vinter praticamente fa un favore alla juventus e questo ragazzi è è il modo della stampa di approcciare alla juventus di approcciare alle notizie sul calcio e di fare informazioni ecco perché finché ci sarà questa gentaglia io sarò sempre pronto a smentirli sempre pronto a farli tacere fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti massima condivisione di questo contenuto fino alla fine contro tutto e tutti sempre comune forza juventus grazie a tutti